ah perchè già sta registrando sta roba? non ha diventato nessuna parte questa roba qui c'è un po' il timore che stesse registrando no no questa roba non ha diventato nessuna parte matto ma sicuro? si si era molto divertente o censuri tutto censuro però secondo me merita una parte puoi mettere su, puoi mettere al massimo puoi mettere, vengo da un cover pesante e la spiegazione del non mettere quello la spiegazione del come vedevo yuki a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo qui insieme a Cristian non che non che vincitore non che vincitore dell'OTS Championship in Ancona che è riuscito ad arrivare in prima posizione con Naturia Runic non è mio, prima di tutto vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzato da Cart Game Corner e se vi serve prodotto sigillato o carte singole trovate il link del loro store qua sotto in descrizione in più c'è un nuovo sponsor assurdo è la piattaforma è la piattaforma per l'acquisto di carte singole come car market ma potresti utilizzare i soldi che trovo sponsor per comprare una sedia che non ha il rumore dell'inferno che ti permette di acquistare carte singole senza pagare la spedizione ed è un car market italiano quindi se volete iscrivervi e iniziare a vendere e comprare carte senza pagare la spedizione il mio referral link qua sotto in descrizione e ottenete anche 2 euro da spendere all'interno della piattaforma e mi supportate un hash common structure detto questo passiamo alla parte seria del video ok se dovete liberarvi di carte di yugi magic pokemon dragon one piece force will e digimon anche da quello che ho visto negli scatoloni dalle vecchie figurine del wrestling a quanto pare di tutto letteralmente togli ore di carta usare qualunque cosa una fibra di carta cappella la compra magico potere di mandarin caos cappella trovate instagram qui sotto in descrizione contattatemi e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo vi lascio a christian che vi racconta come è andato il torneo molto bene e io me ne vado a fare in culo dai allora ho portato una tour a runic come ho detto prima questo non è il mio mazzo perchè io gioco flander basta non ho altri mazzi me l'hanno prestato infatti ho fatto subito i ringraziamenti a leonardo sacchetti che oltre ad aver ripresato il mazzo mi ha anche fatto la lista perchè io non c'ho cazzi di fare una cosa del genere sacchetto è il nostro fratello grande grande un applauso sacchetti un applauso un applauso e supportatelo supportatelo grazie pure te supportatelo non mi ricordo come si chiama su tdc altrimenti gli farei anche una mini pubblicità perchè se lo merita secondo me come se lo merita cercalo e poi lo diciamo alla fine del video tu cercalo partiamo con i mostri come reparto natura gioco soltanto in natura standard ovvero cioè quelli migliori che ci possono essere quindi camelia 3 grillo lui va in natura cosa fa camelia? camelia ha 3 effetti quando entra normal o special milla carta natura quando l'oppo fa normal o special resta un natura da grave e se questo è un effetto migliore un mostro natura si sta per tributare per attivare un effetto posso invece di tributare quel mostro mandare le prime due carte e il deck al cimitero questo è molto forte con grillo grillo è una nuova carta insieme a questa uscite da double che è il mostro più forte del mazzo cioè il natura più forte del mazzo lui dice che effetto rapido si tributa e porta da mazzo un mostro natura se l'oppo ha il mostro un attacco più alto sul terreno invece di portarne uno ne porta due inoltre quando evochiamo specialmente un mostro natura dall'extra deck o l'oppo evoca specialmente dall'extra deck un mostro lui si risammona da solo da grave tutti questi ovviamente hard ones per turn tutti loro l'unico che non è che dice che quando l'ho fatto il fatto di un mostro posso tributare questa carta e un mostro natura annullo quell'effetto e lo distruggo la cosa forte è che mai fatta comunque sia al torneo tu pensa quando hai giocato con me mi hai fatto la loop si esatto la cosa più forte del reparto natura è mettere camele e sunflower che sono due negati di mostro perché invece di tributare con lui prima mi diamo due e al secondo effetto che non è una volta per turno tributiamo due e neghiamo peccato che questa cosa non accade mai perché il reparto natura è solo un engine per spammare sincro i mostri allora qua io apro un mini dibattito secondo appunto il ragazzo che ha fatto la lista del mazzo sono la parte più forte è la parte che ci permette di riciclare carte è la parte che ci permette di caricare una fontana di runic da 3 al quasi al 100% in più ci permettono se ci abbiamo culo di millare l'alberino sto parlando niente o po' di meno che dei pazzi in culo qua delle quattro fatine che per quanto siano limitate comunque sono carte forti parto subito col dire che in realtà non ho detto una cosa più importante la strategia del mazzo non è di chiudere in maniera aggressiva non è di attaccare io non ho fatto una singola battle phase in tutto quanto il torneo è l'unica win condition è quella di millare il mazzo dell'op non ce ne hanno letteralmente altre loro due aiutano molto bene dal momento in cui sono un millo 5 entrambe e sono forti perché appunto vanno a caricare la fontana dei runic loro due invece sono molto forti per riciclare le fusioni dei runic o ad esempio riciclare il reparto Naturia e quindi le loro spell trap per darci più grind game su questo siamo stati indecisi fino alla fine se metterlo oppure no però comunque sia abbiamo notato che ottimizzare il numero delle fatine cioè portarle al maggior numero possibile fosse comunque la scelta migliore anche perché loro due sono quelli che entrano special ma entrano special solo scartando un mostro fatta terra quindi unicamente con le altre fatine e va bene gli ultimi tre mostri che abbiamo giocato giochiamo pochi mostri sono chiaramente tre hash anche qui prima non c'erano tre hash tre hash dicevamo prima non c'erano tre hash c'erano tre nibiru perché questo mazzo soffre veramente veramente tanto cash tira soffre cash tira perché se l'oppostart ci fa la commu che blocca cinque zone ci blocca cinque mezzo trappole il mazzo letteralmente non giochiamo più nibiru è vero che è forte contro contro cash però è anche vero che contro tutto il resto è un po' opinabile diciamo e di conseguenza ha scelto di mettere hash perché è l'entra più variabile che ci sia non che può anche essere utilizzata certo su book of eclipse non che a noi ci faccia così tanto male book of eclipse però resta in ogni caso secondo me anche l'entra più variabile più forte di questo formato qui quindi dentro tre hash fuori tre nibiru questi qui sono i mostri un reparto mostri molto molto breve e molto molto standard ora passiamo alle magie partiamo con le spell runic che sono un'infinità 17 sono allora due fontane facciamo vedere innanzitutto la borghesia di questo ragazzo che è veramente veramente bravo un signore allora parto runic runic è un archetipo fondamentalmente composto unicamente in realtà nel suo main da spell tutte spell rapide tranne la terreno la terreno ha un effetto molto particolare che va a cambiare le regole del gioco praticamente infatti dice che qualora questa carta attiva sul terreno io posso attivare le magie rapide runic direttamente dalla mano anche nel turno dell'avversario quindi senza passare dal posizionarle e il secondo effetto un effetto attivo dice che in risoluzione quando attivo una magia runic io posso mischiare anzi mischiare mettere in fondo al mazzo dal cimitero un numero fino a tre magie runic rapide e pescare il suo numero di carte questa cosa non è nemmeno hard once per turn è once per turn per carta quindi vuol dire che se come in una partita ho fatto ne abbiamo due potremmo pescare anche sei carte in un turno il che è veramente veramente forte e niente questa carta fondamentalmente è un po' il cuore la vita del mazzo perchè ci permette di giocare con le magie runic nel turno dell'avversario senza rischiare che vengano distrutte nelle spell trap e inoltre ci da un draw power veramente veramente forte ora passiamo alle spell runic rapide gioco tre tip una borghesia qui si fa livelli sempre più alti tre tip tre flash in fire tre cursis non si vedono bene qui tre cursis tre destruction e tre slumber spieghiamo cosa fanno in generale le carte runic le carte runic hanno un effetto comune ovvero tutte quante possono essere utilizzate per evocare dall'extra deck un mostro fusione runic unicamente però nella zona extra deck altrimenti non nelle zone main punto questo è l'effetto che condividono tutti comunemente gli altri hanno cioè dopo hanno un effetto un effetto unico ciascuna ovviamente possiamo utilizzarne solo una per turno e solo quell'effetto per turno allora cosa fanno runic tip l'effetto quello lì specifico della carta è che aggiunge una carta runic dal mazzo alla mano e l'avversario bandisce una carta dalla cima del mazzo flash in fire lo spacchino lui spacca un mostro special sul terreno dell'avversario e bandisce le prime due carte dalla cima dell'avversario dalla cima del mazzo avversario e freezing cursis quasi la più forte dopo tipo ovviamente neghino di mostro qualunque e l'avversario banna le prime tre destruction spacchino di spell trap e l'avversario banna le prime quattro e slumber è quella più generica e rende intergettabile no indistruttibile in battaglia ad effetti un mostro quel mostro non può attaccare e lo può banna le prime tre generalmente la più scarsa è destruction che è quella che più volte potrebbe essere gialla mentre invece slumber è quella secondo noi più ovviamente dopo tip è la più versatile perchè è l'unica che può essere attivata senza condizioni ovvero questa richiede che dobbiamo negare un mostro all'avversario questa richiede di spaccare un mostro all'avversario questa richiede di spaccare un mostro l'avversario lei invece no lei può targettare anche i mostri nostri di conseguenza possiamo sempre attivarla anche per bannare appunto le prime tre e vedere contro la mazza che stiamo giocando e quindi andare a setupare una board utile al fine del mazzo che abbiamo contro e dimenticavo una cosa come effetto passivo tutte le spell runic hanno che dal momento in cui le ho attivate io se non mi sbaglio un secondo non mi ricordo devo schippare la prossima battle phase e quindi il trick il trick non è la trick è la gimmick del mazzo è fondamentalmente bandire scoperte ovviamente tutte le carte del mazzo l'avversario mano a mano con la partita va per poi vincere di crash fondamentalmente e per questo appunto non ho mai dichiarato un attacco in battle phase perché non posso letteralmente farlo questo appunto è un mazzo che è molto molto lento di conseguenza non punta ad aggredire non punta a pulire le board completamente ma invece punta a pulirle in maniera parziale ovvero questa è la difficoltà del mazzo cercare di riuscire a stare sopra di risorse andare a far male nei punti specifici dei mazzi che becchiamo contro e anche perché le nostre interruzioni non sono tante come quelle degli altri mazzi di conseguenza non pensate che con questo mazzo anche se partite primi si possa fermare completamente un turno qualche giocata la faranno sicuramente comunque molto più debole molto più debole perché la combo base qui è varone, terreno più tre in mano cioè più tre carte in mano pescate dalla terreno poi ne avremo altre in mano tutto questo con due carte quindi nel senso è un mazzo molto consistente io non ho mai brigato una volta con questo mazzo al torneo è mai brigato una volta e infatti il mazzo mi adora devo essere molto onesto e quindi niente è un mazzo lento che appunto richiede secondo me anche se tutti quanti dicono di no un abbastanza elevato dosi di skill perché tutte le giocate non sono stupide e ho vinto una partita quella contro destra e la voglio raccontare perché è veramente bella contro fungo poi devo raccontare per forza visto che qua l'intenzione massima se devono iscrive e lascia mi piace ah certo ok va bene ok ho visto quella strontata che vorrei anche tu durante il video ma sì sì ragazzi iscrivetevi perché sono a cappella con Kampa tre libri di eclissi su questo non c'è molto da dire carta che letteralmente scopa devo posso dirlo viene finiturata cosa? scopa Kastira diciamo lo stesso scopa Kastira lo distrugge letteralmente Kastira letteralmente non mette interruzioni non mette negate a meno che non vogliamo considerare negate ferri o quelle stronzate lì tu gli fai eclissi e lui letteralmente non ha più la board non ha più la board inoltre è forte perché ci va a togliere è l'unica carta che se lui ci parte con la sua combo di merda che ci blocca 5 zone eclissi è l'unica carta che ci permette di andarla a interrompere perché dal momento in cui lui ci bloccherà 5 zone la partita è finita non abbiamo più modo da andare di sopra impossibile ultime 3 carte 3 natura blessing questa carta è fortissima dice che summon da per mano cimitero un mostro naturia sped rapida fa sincro utilizzando almeno un mostro naturia ma può evocare sincro anche un mostro che non sia naturia e stessa cosa per le fusioni quindi cosa vuol dire è una restart quindi un follow up molto buono in realtà abbastanza decente e ci fa fare delle combo interessanti inoltre può essere utilizzato anche nel turno del lopo per restare robe diciamo che è un extender questo comunque sia non è considerabile l'interruzione ovviamente è un extender ultime 3 carte del main terri albero di naturia che è fortissimo quando ci parti con una qualunque spell runic lei dice no queste non le vedo americane si ma perché ancora non sono uscite collector capito quando escono collector guarda che varone pure è italiano eh varone italiano sai quella della sua motivazione prendo collector adesso che americano collector americano adesso che esce da lì dentro e fa bene e fa bene è giusto così sacred tree semplicemente ha un effetto del cazzo che non dirò nemmeno quando va grave ha da carta naturia passiamo all'extra l'extra questo mazzo ha un po' di tutto fusioni syncrix link tutto quanto abbiamo due ugin ugin è la best card dell'extra praticamente ha l'effetto che quando entra scartiamo carta aggiungiamo la terreno dei runic quindi è il sercino diretto per il terreno quindi vuol dire che ogni carta runic aggiungerà terreno questo dà una stabilità al mazzo non indifferente inoltre non ho più forte che se l'avversario sta preso a distruggere una più carta sul terreno io posso invece distruggere questa questo è un po' complesso ovvero l'effetto si andrebbe a risolvere in risoluzione dell'effetto di distruzione quindi cosa vuol dire se ne abbiamo tot carte sul terreno lui ci fa che cazzo ne so buco nero non funziona con buco nero secondo me eh sì se esiste buco nero noi attiviamo una carta runic per evocare ok una volta che si evoca questa carta qui e buco nero risolve non distruggerà niente ma questa carta si bandirà per prevenire la distruzione di altre carte e quindi non richiede di essere lì non è un effetto è una sostituzione abbiamo poi Gary è il secondo runic migliore tra virgolette ci recupera dal cimitero la terreno runic qualora venisse distrutta indistruttibile l'effetto delle carte qualora venisse distrutta in battaglia distrugge anche un mostro o no una carta mi sa addirittura si distrugge una carta sul terreno ultima carta la best card of the deck abbiamo Moonin che è quello che in poche parole fa vincere al tempo fortissimo pensavo mi tirassi fuori il barone no lui dice che se l'avversario sta per targettare una o più carte runic questa qua si può bandire e negare quell'effetto e distruggere la carta cosa più importante in end phase guadagniamo mille quindi andiamo in end phase il judge chiama tempo attiriamo la qualunque magia evochiamo guadagniamo mille la partita finisce molto forte ora passiamo al reparto sincro abbiamo barone non c'è bisogno che dico cosa fa secondo me oh dai ching jang non c'è bisogno che dico cosa fa secondo me questa allora lui non si capisce nemmeno che carta sia lui è il drago arcidemone scarlato lui c'è sfregio ecco questa carta qui è un'ulteriore carta per vincere al tempo in realtà non è stata messa per nessun altro motivo semplicemente se arriviamo in main phase non in end phase ci chiamano tempo ehm facciamo questa invece di lui perfetto non faceva ancora niente altri sincro fortissimi se becchiamo labyrinth barchion così gli fermiamo le trappole questa è mia eh e no non è vero ah si allora è tu è vero e penso a te non ce l'ha da non ce l'ha da dual terminal in americano mamma mia e pensa comunque da giocato e se becchiamo labyrinth la tiriamo e labyrinth esplode se becchiamo il mirror match cosa che è successa tiriamo bestia e l'avversario esplode è un runic puro si vabbè è un runic puro però gli tiri bestia come mole lo stesso drago corallo e charge warrior per andare a fare questo dopo andrò a dire come gli unici 2x che gioco erano la carta più forte del gioco e eh Duga Dugares no ma infatti è babusca americano vedi e Dugares anche qui non penso c'è bisogno di sapere cosa fanno e ora questa che la lico cosa fa sempre bene nessuno non sa cosa faccia Donner Kebab una carta che nell'extra si è rivelata utilissimo io non me lo immaginavo ho creato tipo tre volte sta roba lui è fortissimo allora qual è il problema di questo mazzo che non possiamo usare link come vedete anche dall'extra perchè nella zona extra se ci sta un link noi non possiamo evocare più le fusioni e quindi questa cosa ci dà problemi se non fosse che Donner dice che può essere innanzitutto evocato con due mostri di tipo diverso quindi tutti i mostri di sto mazzo vanno sono perfetti anche addirittura di stessi Naturia sono uno pianto e un insetto quindi vanno sono perfetti dice che semplicemente è di pie distrugge questo vostro e un'altra carta di pie entra toglie il minaccio e l'avoco petto è veramente fortissimo non me l'aspettavo mi ha vinto tipo due partite sta cosa qui è veramente veramente fortissimo e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento se volete che Cree porti la sua profile di Flander aggiornata fortissimo 4-0 a local ho vinto prima volta che porto Flander senza stato a local 4-0 vinco rotto contro questo mazzo poi eh contro questo mazzo ho vinto lo stesso stessa versione stessa lista quindi nel pratico Flander per proprietà transitiva avete vinto questo di essere esatto e soprattutto una cosa Flander ha un matchup per me avevi visto quei video su youtube che fanno tipo personaggio fittizio due personaggio fittizio tipo dei fumetti no? ecco Flander c'ha il win negdiff praticamente contro Castira non c'ho perso un match contro Castira ho fatto tipo 7 contro Pippo e anche contro altri non c'ho perso un match fortissimo Flander contro Tira contro Castira quindi forse prossimamente vedrete anche la profile di Flander si 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 porta detto questo ragazzi statemi easy e noi ci vediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti